Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo tutorial su D3JS In questo video proveremo a creare un nostro bar chart con dei div Che cos'è il bar chart? Sarebbe un grafico con le barre verticali Più grande la barra, più è alto il valore che rappresenta Ok, quindi applicando il bar chart sul nostro dataset La barra che rappresenterà 17 sarà più alta della barra che rappresenterà 9, 7, 5 e così via Vabbè, è un grafico che avete sicuramente visto Allora, il primo passo è crearci un div di prova con il CSS E poi applicare tutto con D3 e vedremo anche dei nuovi metodi Vedremo il metodo attr che serve ad assegnare degli attributi Ok, quindi proviamo a creare qui nel body un div e gli diamo la classe bar Quindi una classe più semplice possibile Ok Per creare una barra, quindi andiamo a scrivere il nostro CSS Possiamo semplicemente dare display inline block Gli diamo una larghezza Una larghezza bassa di 20 pixel ad esempio E un'altezza di 80 pixel O 70 pixel Quello mi è uscito e quello va bene E poi gli diamo semplicemente un background color red Ok E quindi che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato questo qui Questa è una barra Ragazzi, semplicemente Non siamo qui a fare chissà che Ok, e questo ci va bene Ok, ce lo facciamo andare bene per il momento Quindi andiamo a cancellare il nostro div E lo andremo a creare dinamicamente in base al nostro dataset Ok, quindi D3 Select body Select all div E qui stiamo facendo il ragionamento di prima Ragazzi, i div non esistono Ok, quindi select all restituisce 0 Però noi andiamo a chiamare data Dataset E quindi andiamo a contare e a scorrere il nostro dataset E poi chiamiamo enter Ed enter fa tutto il resto Quindi enter ogni volta Come sappiamo Il codice dopo data sarà eseguito Un numero di volte pari al numero di elementi di dataset Quindi in questo caso 7 volte Enter andrà a vedere che non ci sono div Andrà a vedere che invece ci sono 7 elementi da mappare Andrà a creare dei placeholder Dei buchi all'interno del nostro DOM Dove poter inserire degli elementi HTML Delle SVG E quello che vogliamo Infatti andiamo a chiamare append div Ok Quindi andiamo a creare un div Questo div però deve avere la classe bar Perché altrimenti non viene applicato questo CSS Bellissimo Quindi che cosa facciamo? Utilizziamo il metodo Attr Quindi sta per attribute E gli diamo a dire che la classe di questo div Deve essere bar Ok ragazzi Nulla di più semplice Nulla di più semplice Ok Io metterei un bel punto e virgola E andrei a vedere questo bellissimo risultato Eccolo qui Uno dopo l'altro Un unico blocco Di Di div Ok Però ovviamente non ci sta bene Perché Perché l'altezza di questi div Deve essere variabile Cioè non devono essere grandi tutti allo stesso modo Perché altrimenti Non ha senso Quindi andiamo a creare Andiamo a chiamare il nostro metodo style E gli diciamo che l'altezza Deve essere in funzione di d E quindi Il parametro Il secondo parametro Che sarebbe il valore che vogliamo assegnare a height È una funzione anonima Che riceve d E come sapete D è il valore corrente Che stiamo scorrendo all'interno del dataset Andiamo a crearci una variabile Bar height D Ad esempio per 5 E quindi ritorniamo Bar height Più px Px Che cosa stiamo facendo qui? La prima chiamata per esempio D vale 5 Quindi noi restituiamo 5x5 25 px Ok? La seconda chiamata 7x5 35 px Ok? E così via Stiamo scalando un poco Anziché fare direttamente Return Di px Quindi 5 px 7 px Noi sappiamo È una cosa È un ragionamento che stiamo facendo In base al fatto che noi sappiamo Che abbiamo valori bassi Quindi possiamo permetterci il lusso Di scalare per 5 Perché per 5 è tanto Se qui avessimo avuto 200 Sarebbe stato 1000 Quindi 1000 px E già cominciano ad essere valori grandi Sappiamo che sono piccoli E quindi ci permettiamo il lusso Di fare questo scale Questa scalatura E Ok Andiamo ad aggiornare Eccoli qua Però Notiamo che in effetti Sembrano degli scalini Dovrebbe sembrare questo Dato che gli elementi Sono anche in ordine crescente Però Diciamo che possiamo assegnare Un ulteriore style Mettendo margin right 2 px Ok? Proprio un minimo sindacale Per avere delle barre distanziate fra di loro In modo che siano Vedete com'è molto più Intuitivo Vederlo in questo modo Rispetto a prima Che erano tutte una vicina all'altra In questo modo Noi sappiamo Con sicurezza Che questo è un grafico a barre Prima invece Sembrava semplicemente Un disegno Uno scalino Quello che vogliamo Ok E questo è il nostro bar chart La bellezza E la potenza Di dataset E che Se noi andiamo a mettere Date a caso Ok Ad esempio Così Funziona uguale Ok Quindi Possiamo mettere 1000 elementi 10.000 1.000.000 10.000 2.000 7.000 La stessa cosa Non cambia niente E Rendetevi conto Della potenza Però di questa libreria Che in 10 Righe Di javascript Riesce a fare Anche delle magie Perché noi andiamo a selezionare Div che non esistono Li mappiamo con dei dati E ci basta chiamare un metodo Che si chiama Enter Per fare tutta la magia Ok Fino adesso Noi abbiamo utilizzato Elementi HTML Questi però Come voi sapete Possono cambiare Da browser a browser Dovremmo scrivere comunque CSS Dovremmo Come voi sapete Il CSS ti costringe spesso Anche A fare dei Dei tricks Quindi Dei trucchetti A forzare Il codice Quindi Per i grafici È meglio Utilizzare Delle immagini Che si chiamano SVG Che sono più affidabili Sono più Veloci anche Da disegnare E sono più consistenti SVG sta per Scalable Vector Graph Che sono delle immagini In formato text based Quindi in formato testo Perché basato sul testo Lo scopriremo nel prossimo video Quindi non perdetevelo Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Se avete delle domande Delle curiosità Delle richieste Lasciate un commento Iscrivetevi al canale Perché Così non vi perderete I tutorial successivi Noi ci vediamo Al prossimo video